Gli anime veicolano inevitabilmente le culture dei loro autori e, nello specifico, quella giapponese. Vari e numerosi sono infatti negli anime riferimenti e richiami ad elementi fondamentali del costume e della società nipponici. In questo video ne analizzeremo 5 per voi! Shintoismo e Buddismo Lo shintoismo è la religione autoctona del Giappone, caratterizzata da una visione animista della natura. Innumerevoli sono i miti e le leggende tratte dalla tradizione shintoista, che forniscono agli anime ben più di uno spunto per le storie che narrano. In particolare, un tratto caratteristico dello shintoismo è proprio quello di combinare elementi fantastici appartenenti a realtà situate oltre la normale soglia della percezione umana, con l'ordinaria vita quotidiana, caratteristica che è facile riscontrare anche in moltissime opere animate giapponesi. Ma a giocare spesso un ruolo nella trama è anche il buddismo, in particolare lo zen. A prescindere dalla frequente presenza nelle storie di un monaco, sia in chiave caricaturale che seria, la tradizione zen, per il suo approccio pragmatico e diretto alla realtà, poco incline alla costruzione di sistemi concettuali che pretendano di spiegarla, ben si presta per storie in cui i personaggi svolgono ruoli d'azione. D'altronde il significato degli anime è pur sempre intrattenimento e spettacolarità. Un esempio di figura comica è senz'altro Sakurambo, il bizzarro monaco di Lamu, mentre una sua connotazione più seria la possiamo trovare per esempio in Rea, Sailor Mars, la guerriera del fuoco in Sailor Moon. Il Bushido Altro fattore che porta negli anime tradizioni, aneddoti e situazioni è senz'altro l'etica marziale riconducibile fondamentalmente a quel complesso di comportamento costituito dal Bushido. Nel Bushido sono presenti qualità morale e guida, quali la giustizia, il senso del dovere, la lealtà, la compassione, l'onore, l'onestà e il coraggio, elementi che fanno spesso da sfondo a molti anime. Inoltre il Shugyo, ovvero il severo tirocigno per arrivare al dominio di sé e all'autodisciplina, caratterizza il percorso e l'evoluzione dei protagonisti degli anime, spesso impegnati in imprese che mettono a dura prova le loro risorse interiori e che richiedono loro di superare le proprie paure e debolezze. Senpai e Kohai Il percorso di cui abbiamo parlato poco fa, tuttavia, di regola non può avere inizio senza una guida, sia essa rappresentata da un genitore o da un maestro, sensei, che indichi la via con il proprio comportamento. Questo rapporto nella società giapponese è normalmente rappresentato dalla coppia Senpai-Kohai. Se volete saperne di più su questo rapporto, non perdetevi il video dedicato. Il Giri, ovvero il senso del dovere Idealmente, nella mentalità di molti giapponesi, la vera forza consiste nel non curarsi della propria personale felicità. Il Giri è appunto il dovere di saldare un debito, che può essere nei confronti del proprio sovrano, dei genitori, degli antenati, eccetera. Nelle storie di molti anime, esso arriva addirittura ad essere nei confronti del mondo intero, rispetto al quale il protagonista, superando spesso i propri sentimenti personali e a dispetto dell'isolamento che la sua inevitabile diversità comporta, si assume la responsabilità di salvatore fino all'estremo sacrificio di sé. Gli esempi negli anime di una tale imposizione culturale sono innumerevoli. Prendiamo Gundam o i cavalieri dello zodiaco per citarne un paio tra tanti. Uomo, natura e tecnologia. La complessa discussione sul rapporto tra natura e tecnologia è in atto dal lungo tempo nella società giapponese e si riflette inevitabilmente negli anime. Se da un lato infatti la tecnologia viene rappresentata come positiva per l'uomo, laddove gli garantisce un maggior benessere e sviluppo, per non dire quando lo salva da terribile minacce, d'altro canto essa in altre opere si trasforma nella peggiore shagura, in quanto causa di devastazione ambientale o addirittura fautrice della distruzione totale. Gli esempi più immediati si incontrano nel genere mecha, gli anime sui robot, per quanto riguarda la tecnologia vista in modo positivo poiché aiuta l'umanità, in questo caso a difendersi dagli invasori alieni, mentre la sua stigmatizzazione si ritrova sovente nell'opera di autori come Hayao Miyazaki, Conan ragazzo del futuro in primis e Tatsuo Yoshida. E diteci, voi quali esempi della cultura giapponese riscontrate spesso negli anime? Fatecelo sapere nei commenti! Grazie a tutti!